Buongiorno, siamo qui con la dirigente scolastica, professoressa Concetta Cimmino, dirigente scolastica dell'ITC Boccardi-Tiberio di Termoli. Oggi ci sarà un evento molto importante per la scuola dove verrà presentata una rete di scuole. Ce ne vuole parlare? Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Per me è un onore essere dirigente di una scuola del Molise, che è scuola polo di una rete nazionale. È una delle 40 rete nazionali promosse dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, tesa a diffondere le metodologie didattiche innovative con l'uso delle tecnologie digitali. Si è parlato tanto di DAD in questo anno e mezzo di pandemia, diciamo che abbiamo imparato tutti una lezione che senza digitale non riusciamo comunque a far fare passi avanti nel campo dell'economia, nel campo dell'ecologia, ma direi di più anche nel campo del sociale. Ci sono ampi studi in letteratura che dimostrano e le tecnologie digitali danno molto progresso e favoriscono il successo in ogni ambito e non ultimo quello scientifico. Noi a scuola abbiamo il domere di preparare le studentesse, gli studenti, gli alunni e gli alunni al corretto uso del digitale. E allora che cosa è accaduto? Che nove scuole diffuse su tutto il territorio italiano, dal nord al sud, isole comprese, hanno deciso di mettersi in rete per portare avanti un progetto che oggi presentiamo e va sotto il nome di Fabriamo il futuro. Si tratta di una fabbrica, sì, di una fabbrica e tutto sommato le migliori menti, pensiamo a Google, alla Apple, hanno dato il loro meglio nell'ambito di un garage, quindi il termine, il verbo fabbricare è proprio molto pregnante. I ragazzi che vengono selezionati all'interno delle scuole, sì, ci metteranno una serie di percorsi didattici che hanno una durata da 25-30 ore per produrre delle applicazioni, delle pagine web, delle chatbot e si useranno tramite WhatsApp, per esempio per collegarsi in vari punti della città e verificare il tasso di inquinamento. Sì, ci metteranno percorsi di laboratorio di imprenditorialità nella creazione di start-up. Si cimenteranno con percorsi per l'applicazione di particolari app con dei dispositivi particolari. Ecco, i dettagli poi magari verranno resi noti attraverso le interviste che rilasceremo e attraverso le varie pubblicazioni che potrete trovare su una pagina che viene dedicata sul sito del Boccardi di Berio ma viene girata ovviamente sui siti delle altre scuole. Il senso di tutto questo che cos'è? Mettere in comune ciascuno la propria esperienza, il proprio entusiasmo, far sì che all'interno delle metodologie tradizionali della didattica, che comunque sono un punto forte della scuola italiana, vengano introdotte particolari metodologie. Il passaggio successivo dopo la presentazione di questo evento sarà l'avvio dei percorsi e poi una serie di appuntamenti ai quali vi rimandiamo. Vi do solo un anticipo, ci rivedremo più o meno a febbraio per un contest, anche in quel caso sarà nazionale, e poi chiuderemo il progetto con un hackathon. Desidereremo ospitare le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, all'interno della rete vi sono scuole superiori ma anche scuole del primo ciclo, e organizzeremo tre giorni di gioie e gare, perché crediamo tanto nella sostenibilità sociale. Nulla e niente più di più forte di una socializzazione in questo momento può costituire un punto forte per la crescita del capitale umano. E noi ci siamo, quindi insieme cominciamo, fabbriamo il futuro. Quindi nel corso delle attività ci saranno anche momenti di scambio, proprio gli studenti del Boccardi, quindi la nostra città andranno presso le altre scuole e viceversa, Covid permettendo, come vi organizzerete? Certo, diciamo che lo scambio c'è sicuramente nell'ambito delle attività digitali e nell'ambito delle attività a distanza. Ci sarà uno scambio tra gli studenti internamente ad ogni scuola, perché il progetto ha anche un'altra finalità, che è quella della diffusione all'interno di ogni scuola e tra le scuole del territorio di appartenenza di ciascuna delle scuole e delle rete, di diffondere queste brani e didattiche. Quindi si moltiplicheranno gli scambi Covid permettendo, noi potremo creare questi gemellaggi, ma di sicuro ospiteremo in quanto scuola Polo alcune delegazioni di studentesse e di studenti per gli eventi che suggeriranno dei momenti fondamentali. Sono momenti non solo di svago, perché ci divertiremo anche, io dico sempre che la scuola è anche un momento di divertimento, divertere dal resto e magari non essere costruttivo nell'ambito del percorso di vita di ciascuno. E nell'ambito di queste giornate noi avremo la possibilità di produrre dei momenti in cui si scambiano le esperienze ai ragazzi, migliorando le proprie esperienze. Quindi ancora una volta la sostenibilità sociale, la collaborazione, il co-working come punto di forza delle attività. Grazie mille, le auguriamo un buon lavoro. Grazie e buona giornata.